Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere lei Ho appena notato leggermente le saldature, però devo dire che sono ben fatte e molto belli e diciamo rudi da vedere e con doppia forcella anteriore e ammortizzatore posteriore, anche se sinceramente non ce n'era bisogno e non sono regolabili, i pneumatici FET da 20 pollici sono fantastici e comodi in una bici elettrica e presenti anche in doppio freno a disco, doppio freno a disco comunque efficiente diciamo per la velocità che raggiunge si ferma molto facilmente, stesso cambio Shimano che abbiamo visto sulla OT10, sempre 7 rapporti ed è a dir poco reattivo uno dei migliori mai provati come appunto lo T10 diciamo che si mette la marcia, entra subito senza un attimo di esitazione, qualsiasi marcia, nemmeno una fallata diciamo così il motore da 250 watt per rimanere nei 25 km di velocità massima accompagnato da una batteria da 48 volt 17 ampere estraibile e per farlo si deve inserire l'apposita chiave per poterla poi ricaricare dove si vuole quindi si può estrarre la batteria e caricarla dove si preferisce parliamo delle funzioni e del display, finalmente un display degno di nota ed è proprio la prima cosa che si vede una volta unboxata la bicicletta da notare anche il design ok, sì semplice, così verticale ma ci sono anche proprio le smussature qui nella parte esterna display comunque LCD normalissimo però è bello perché ci sono caratteri grandi visibili a tutti caratteri maxi per la velocità nella parte centrale, la batteria residua, i chilometri percorsi, i chilometri totali insomma diciamo che non manca nulla e le funzioni di spedizione sono tre la prima funzione quindi la modalità 1 o meglio c'è modalità 0 quindi solo a pedalata dovete pedalare e basta, modalità 1 raggiunge 15 km orari modalità 2 premendo sempre il più o meno qui sulla sinistra si arriva ai 20 km orari e modalità 3 i 25 km orari questi 25 km orari, sì, possono essere modificati e aumentati leggermente vi accendo altre due cose tenendo premuto il tasto più si attivano i fanali quindi anteriore e posteriore questa volta di default se accendete solamente la bici e i fanali spenti anteriormente rimane retroilluminato il led anteriore ottima cosa e invece tenendo premuto il tasto meno si attiva la modalità cruise diciamo che vi accompagna quando porterete la bici a piedi quindi zero fatica e per sbloccarla niente di più semplice pensavo uguale allo t10 con questa tecnica di tenere premuto l'acceleratore il freno in contemporanea le ho provate tutte appena spacchettata ma non è la procedura corretta questa volta bisogna entrare nel menu segreto quindi si deve tenere premuto più e meno contemporaneamente e si entra nel classico menu segreto con i vari programmi da modificare mi consiglio solamente di modificare il programma 8 che è quello della velocità massima il programma 1 si regola la retroilluminazione del display poi da tutti gli altri su tutti i parametri della bici che vi sconsiglio di andare a toccare insomma arrivata il programma 0 8 e impostate la velocità diciamo velocità ma è la numerazione 67 impostando 67 attendete quei tre secondi senza fare nulla neanche senza spegnere la bicicletta automaticamente la bici è sbloccata e raggiunge i 32 km orari diciamo che questa velocità la raggiunge repentinamente e mura la velocità a 32 km orari sembra che voglia andare molto di più però diciamo che 32 km orari è comunque già un bel andare e vi ricordo di pensarci bene di fare questa procedura o meno perché non è legalissimo non si deve mai superare con le bici elettriche a pedalata assistita ai 25 km orari però c'è il manettino anche il manettino non dovrebbe esserci vabbè nell'utilizzo devo dire che è comodissima c'è bisogno di avere un doppio ammortizzatore devo dire assolutamente no qualsiasi terreno non è un problema e questa è la caratteristica numero 1 della one s3 se le strade cittadini non sono un problema come anche i terreni impegnativi c'è un dettaglio da non sottovalutare se lo utilizzerete a lungo noterete un leggero fastidio ai muscoli delle anche soprattutto a pedalata assistita ma perché dico questo guardate la sella avete visto che la sella è impegnativa comunque è molto grande ma è anche molto larga quindi solitamente non si ha questa postura sulle selle tradizionali e vi tiene le gambe molto aperte dai diciamola così quindi soprattutto quando andrete a pedalare si fa sentire parecchio diciamo che dopo i miei primi 50 chilometri mi sono abituato ormai non sento più questo fastidio e invece se la utilizzate come un vero e proprio motorino non ci farete neanche caso non lo da dire sulla ampiezza della sella è diciamo che ci possono stare tre persone ma non vi ho detto niente devo dire che è l'icona numero uno di questa bici la sella e anche il fan all'interiore molto retro per attenzione che non si può regolare l'altezza e sono alto più o meno 172 circa e la bc è perfetta appoggio perfettamente i piedi a terra non c'è nessunissimo problema ma per persone un pochino un po più alte ha fatto provare anche gli amici alti 181 85 inizia a farsi sentire quindi conviene stare tanto tanto indietro sulla seduta questa cosa qui della sella non regolabile è un gran difetto però un gran prezzo avere un design del genere oltre al manopolo che rende il tutto più reattivo con una leggera pedalata il motore reagisce molto bene e gradualmente raggiunge le velocità prefissate devo dire che a volte è un po scorbutico alla massima velocità e se non pedalate energicamente si notano questi vari attacca e stacca e questo si nota solamente se non pedalate con forza invece se date una mano al motore delicatamente dai diciamo così mantiene la velocità è una barbarità è ottima anche in spazi ristretti si riescono a percorrere salite fino a 30 gradi di angolazione diciamo che c'è un'ottima potenza ai bassi regimi per aiutarvi in qualsiasi situazione e anche i parafanghi qui sono interamente in plastica e devo dire che fluttono parecchio però utili soprattutto in queste giornate oggi è una giornata bellissima di sole senza vento si sta benissimo però fino a ieri ha diluviato per due settimane più o meno quindi i parafanghi svolgono alla perfezione il loro lavoro l'autonomia è fantastica perché con questa batteria maggiorata da 17 ampere ora anche un pochino più ingombrante perché si vede proprio a vista d'occhio che è leggermente più grande rispetto alle classiche si riesce a percorrere 50 chilometri completamente in elettrico invece se la utilizzate un pochino anzi se la aiutate un pochino con la pedalata devo dire che io cerco di pedalare il più possibile voglio tanto quest'ultima settimana l'ho voluta sfruttare all'autodromo di misano e non è un mezzo che si vede diciamo molto spesso sono rimasti tutti soddisfatti oltre all'estetica anche nell'utilizzo visto che tutti la volevano provare devo dire che la comunità è senza uguali però se è la parte che dovrete farci l'abitudine poi comunque dipende dalle vostre abitudini mi raccomando fatemelo